Si tratta di Angela, la figlia di Dana. Chi parla? È successa una cosa. La vittima è stata vista in compagnia di Jason Buellig. Indossava questo quando è stata uccisa. Come mai ce l'avevi in casa? Mi spiace, dobbiamo rilasciarlo. Ai miei tempi non servivano prove schiaccianti. Ci bastava l'istinto. Scava. Non avete prove. Sdraiate! Ha ucciso una ragazzina. Abbiamo fatto la cosa giusta. Abbiamo una nuova pista che scagiona Buellig. Quando hai qualcosa da nascondere, ti senti in gabbia. L'odore della tua paura si sente a distanza. Siamo stati noi. Volevamo solo spaventarla. Cazzo, cazzo, cazzo! Detective, avete visto il mio Jason? È sparito da giorni. Cosa abbiamo fatto? So che mi state nascondendo qualcosa. Abbiamo giustiziato l'innocente. Non toccarmi! I peccati si pagano. Passi anni a fare le scelte giuste. Poi un giorno fai quella sbagliata e ti resta un segno che non va più via. Come una macchia di sangue.